Ciao Fragoline, allora come leggete dal titolo ho preso i primi grattevinci di gennaio del 2021 e vediamo se con questi due grattevinci iniziamo col botto oppure no Allora, questa volta ho scelto Porta Fortuna e questo qui che si chiama 10x Allora, questo qua da 2€ Allora, ho preso questo perché a fine dicembre mi è successa questa cosa qua Allora, adesso non mi ricordo se era il 28 dicembre, non lo so Comunque non stavo registrando, non stavo facendo niente Ero in giro, dato che volevo provare a vedere se vincevo per l'ultimo dell'anno almeno qualcosa Ho provato a prendere uno di grattevinci e ho preso questo qua Ed ero al Bennett, ero lì che grattavo A un certo punto non mi ero accorta che avevo vinto 10€ Allora ho detto, ma cavolo, quando devo registrare non riesco a vincere mai niente di quella cifra Che poi, cioè, ho speso 2€ e non vinti 10 E allora ho detto, o porta sfiga registrare e grattare in casa Oppure, quel giorno lì sono stata fortunata che ho finito l'anno con praticamente 10€ E allora ho detto, boh, riprovo, provo a riprendere ancora questo qui Ma lo gratto con voi e vediamo se davvero vinco qualcosa Allora, praticamente dobbiamo trovare o i numeri uguali Oppure dobbiamo trovare il 2x, 3x, 5x o il 10x L'altra volta ho trovato il 2x e ho vinto 10€ Adesso vediamo se questa volta mi portate fortuna oppure sono solo sfigata Ovviamente, grattando qua in casa Comunque, detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video Lasciarmi un like, un commentino qua sotto di quale grattivinci volete che io gratti Non superiore a 20€, magari Ma neanche 20€, facciamo 10€ E seguirmi su Instagram, ovviamente Detto questo, possiamo iniziare a grattare e a vedere se abbiamo vinto qualcosa Iniziamo Allora, iniziamo da questo qua, che sono curiosa Vediamo Allora, vi avvicino perché credo che poi non vedete niente Ok, così almeno vedete Iniziamo da qui 11 33 33 19 26 Vediamo Allora 14 Ovviamente 34 23 Sono numeri alti per cui sarà impossibile 25 Abbiamo il 26 Magari 500€ 41 Niente Dai, almeno il per Credo che questa volta mi va male 12 E abbiamo l'11 32 E abbiamo il 33 36 Abbiamo il 33 35 Non ce l'abbiamo E l'ultimo Il 28 Ok Abbiamo capito che Porterà sfiga a registrare Porterà sfiga a registrare E niente, questi sono i numeri Ovviamente non ho vinto niente Però, cioè, si sapeva Se inizi già con i numeri alti Cioè, queste cifre sono troppo alte Non riuscirai mai a vincere Però, vabbè Uno è già andato Porta fortuna Dai, almeno qualcosa devo recuperare 40 40 500 Iniziamo bene anche con questo 40 2 euro 20 20 E 20 E 20 Bene Neanche con il porta fortuna Non abbiamo vinto Una ceppa Direi che Secondo me Se registro Sono sfigata Se invece Li gretto direttamente Nel supermercato Secondo me Vinco sempre qualcosa Anche molto di più Bene È andata così Direi che Ci è andata male Anche questa volta Comunque Vabbè Calcolate che ho speso 3 euro Per cui Neanche tanto Dai Comunque Io E ovviamente Quelli che mi hanno scritto Sotto nei commenti Nell'altro video Dove ho grattato Mi avete chiesto di fare Due video Al mese Dei gratti e vinci Per cui Ho già L'altro video Che poi vedete Verso Tra due e tre settimane Già pronto Se Perché avevo Intenzione Di farne tre Però secondo me Poi dopo Risultava Pesante Per cui Secondo me Due video Al mese Per i gratti e vinci Bastano E avanzano Niente Questo È il risultato Che Non ho vinto Niente Sarà per la prossima volta Speriamo Fatemi sapere Quale grattevinci Vi piace di più Che io gratto Così almeno Provo A vedere Se Con quello che mi dite voi Gratto E vinco qualcosa Non dico 20 euro Ma almeno 10 5 euro Davini Per vincere Non sarebbero male Vabbè Detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto Io Vi saluto Noi ci vediamo Al prossimo video E Mi raccomando Scrivitemi Qui sotto Nei commenti I gratti e vinci Al prossimo video Ciao Ciao